ciao ragazzi ciao ragazzo oggi andremo a preparare il cappuccino come al bar in due modi uno lo prepareremo con questo e un altro con questa macchinetta abbiamo già preparato i bicchieri uno con cioccolato uno così ci servirà un bicchiere stretto e alto e poi una tasca un bicchiere qualsiasi cosa gradite la prima cosa andremo a mettere a bollire il latte il latte deve essere proprio bollente ora andiamo a mettere a bollire il latte e prepariamo il cappuccino eccoci tornate il latte bollente ora andremo a prepararlo prima in questa pendola quindi per non rischiare di rompere il bicchiere di vetro ci abbiamo procurato una tazza andremo a mettere metà del latte qui dentro e prepariamo prima questo qui prepariamo il nostro cappuccino potrebbe scrizzare speriamo di no perché bollente più movimento li facciamo più il cappuccino viene cremoso altri due minuti in base alla crema a come ci piace cremoso a me piace tanto cremoso ora questo lo andremo a versare qui dentro ecco il nostro cappuccino con la pendola ecco a noi ora andremo a preparare l'altro e questo qui ci aggiungiamo il latte e azioniamo la macchinetta questo è un bollenda ci mette più tempo eccoci ancora ecco il nostro cappuccino è pronto sia con questa macchinetta e sia con la pendola secondo il mio gusto mi piace di più questo con la pendola perché fai molto prima e viene più cremoso ecco a noi sono pronti come ho già detto quindi sono ben cremosi tutti e due sia questo che questo però io la maggior parte uso di più questa qui perché mi rende più facile ma volendo esposare anche questa in base a quella che vi piace di più grazie per aver seguito il mio video ricetta vi auguro a tutti una buona giornata e al prossimo video ciao a tutti a presto